L'hanno definita chiatta carceraria. La Bibby Stockholm, si chiama così, è arrivata nel porto della città inglese di Portland. Nel giro di un paio di settimane comincerà ad ospitare fino a 500 richiedenti asilo che vivranno proprio all'interno della chiatta. È una delle decisioni contenute nel nuovo disegno di legge anti-immigrazione approvato nella notte tra lunedì e martedì dal Parlamento Britannico. Secondo l'alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, il disegno di legge è in contrasto con gli obblighi del Regno Unito in materia di diritto internazionale e avrà pesanti conseguenze per i migranti in cerca di protezione. Il disegno di legge e la stessa chiatta fanno parte della strategia del primo ministro Rishi Sunak per impedire ai migranti di effettuare rischiose traversate del canale della Manica su piccole imbarcazioni. Per entrare in vigore il disegno di legge dovrà ottenere la promulgazione da parte di Re Carlo d'Inghilterra. Il provvedimento sta scatenando un profondo dibattito nel Regno Unito contro organizzazioni umanitarie schierate apertamente contro Downing Street.